Oggi lunedì 28 di agosto apre ufficialmente la campagna abbonamenti al campionato di Serie A di basket 2023-2024 per quello che riguarda la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Ci troviamo questa mattina al punto vendita Prodi Sport di Largo Ascoli Piceno, punto ufficiale per quello che riguarda la campagna abbonamenti alla VL. Sono da poco trascorse le 10 di mattina, Prodi Sport è aperto dalle 9 ma c'erano tifosi pesaresi in fila già dalle 6 di mattina. Questo perché oggi la campagna abbonamenti è aperta a livello generale, c'è la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sui vecchi abbonati, c'è la possibilità di acquistare abbonamenti nuovi sui posti liberi appunto dai vecchi abbonati e soprattutto c'è la possibilità di tesseramento alla VL Fan Zone. Prezzi ultra popolari in quella che è una formula sperimentata lo scorso anno con un bambino accompagnato da un adulto, 220 posti disponibili che si stanno esaurendo in poche ore e con qualcuno, qualche fortunato, qualche mattiniero della prima ora che è riuscito ad accaparrarselo e qualcuno che sarà costretto a rinunciare. Non mancano anche le critiche su una modalità organizzativa rivedibile. C'è gente che è venuta qui dalle 6, 6 e mezza di mattina e poi si ritrova magari che non riesce a prendere il biglietto desiderato, io parlo della Fan Zone e i posti sono veramente limitati e magari qualcuno ne prende 10 per famiglia e quindi gli altri rimarremo probabilmente senza biglietto della Fan Zone, quindi faremo la fila inutilmente, ci aspettavamo un'organizzazione più articolata e migliore. Naturalmente c'è chi è riuscito ad accaparrarsi l'abbonamento alla Fan Zone, soprattutto i più mattinieri. Io sono arrivata alle 6.40 da Montecchio, quindi dopo 4 ore di paziente attesa, sono riuscita più che altro per mio figlio a prendere questi biglietti, lui ci teneva molto di andare alla Fan Zone perché il clima che si respira lì è unico e quindi possiamo dire missione compiuta. Ma ricordiamo che la vendita è aperta anche a tutte le altre tipologie di abbonamento e in questo caso la fila è stata assolutamente ridotta. La fila è soprattutto per la zona per i bambini e tutto, noi siamo arrivati 8.15, abbiamo fatto presto perché è un abbonamento nuovo per cui ci sono posti liberi ancora e siamo entrati in un'altra zona, non è la Fan Zone ma è nuovi abbonamenti quindi corre abbastanza velocemente. La Fan Zone invece è abbastanza intoppata come fila.